Palli per tutti ragazzi eccoci qua Siamo finalmente un nuovissimo video dove continuiamo Con i nostri paladini ragazzi e anche questa volta Continuiamo con il mazzo ovviamente un paladino Classico e non è un pur pali Non è un pur pali in confronto agli altri pur pali Perché sappiamo noi giochiamo praticamente solo Pur pali Questo qua è ragazzi lo scaglia penna Il mazzo che diciamo sfrutta la scopa animata E lo scaglia penna è diciamo Tipo il piroman selvaggio, il serbaro Per diciamo incredibili combinazioni Che questo qua è un mazzo Che ora come ora penso sia il mazzo che ha più i rate Che c'è ora come ora e meta e volevo testarlo Insieme a voi per effettivamente provare la sua Verra potenza, devo dire che un mazzo l'ho provato Forte ragazzi, mi piace Forse un po' non so, mi piace un po' di più il pur pali Perché questo qui è un mazzo che bisogna un po' giocarci Bene attorno, invece il pur pali diciamo devi giocare Servitori e basta Ok ragazzi quindi ovviamente questa qui è la lista, ovviamente Vi ricordo di sicuramente commentare e mettere Like se non l'avete fatto perché ragazzi così potete solo Supportare il mio canale e per incredibili Avventure, quindi ragazzi cominciamo subito con lo skypan E arriviamo a rank 2 Ma all'altro se non piaschi lì Ovviamente immagino che abbiamo perso perché Basta che evoco una bestia, faccio click command Potere eroe Due ha bisogno di bestia, potere eroe Deve avere proprio le carte perfette lui Una ci sta che abbia click command Perché comunque deve avere anche una bestia E deve avere potere eroe Ah allora 55 Ci chiamo così sul Uno va in faccia, basta che uno non mi va da faccia Ovviamente, ma pensa te Ovviamente, papaccia Addio merda Niente Tanto che però magari farò Farò morguglio così metto anche un po' più borde Anche più modo di tradarla Tanto posso farla anche con uno dopo Giocare tutte le carte che ho in la mia mano Ok, vediamo adesso cosa gioca Ok, gioca il Libra Cosa fa? Se lo buffano? Si bersaglia faccio che si vuole tradarla faccio Che vabbè, non è un problema per noi Ovviamente non è mai stato per noi un po' Le matadevo se vede di merda Ok, quindi giochiamo lui Infiggiamo un danno Baffiamo lui Questo ci torna in mano Infiggiamo tre danni E ovviamente Andiamo a falsa ragazzi Grazie, fortissimo scaglia pene Questa è la value che ha scaglia pene Anche quei piccoli teli Che però alla fine ti danno comunque value A tradare anche i pezzi contro paladino Contro qualsiasi mazzo che è E io e sia Ok, adesso vediamo cosa vuol fare il nostro bersaglio Giocherà ovviamente lui Che è fortissimo Ma grazie all'aiuto di scaglia pene Possiamo sfruttare e tradare Come se nulla fosse Perché io comunque io adesso posso fare così Trado lo scaglia pene Io Trado lui Gioco il due mana Gioco il due mana giustamente Quello mi torna in mano Faccio lui E in questo modo gli do tempo Diciamo E in modo di comunque anche Baffare i suoi servitori Magari non gli facciamo tanta donna Magari non mettiamo tanta borda Però in questo modo diciamo Più basato secondo me Più su un conto Questo mazzo In questo modo comunque Teniamo sempre la borda attiva E tradiamo tutto quanto Quindi ragazzi Velocità extra bit Velocissime Ok vediamo lui cosa gioca Mi aspetto un coin In two halber Infatti ragazzi Ovviamente è andato così Ok volendo potremmo giocare Qualtimam La voglio tornare a sé Lui è classico Libram E quello puro Quindi potrebbe darci Un po' più di noie Sicuramente Ok facciamo così Baffiamo lui Comunque lui Tanto continua a scontarsi Che a me va bene Quattro Peccato che non riusciamo Ad ammazzarlo Non riusciamo ad ammazzarlo Facciamo così Tacchiamo con lui Con il quattro mana Il quattro mana Non ci muore Pensavo muore Se l'ho sbagliato io Adesso ce l'ho secca È colpa nostra Ragazzi passiamo Ecco comunque diciamo Da questo punto di vista Non è molto forte Perché non ha Non mette così tanta borde Come lo mette magari Il purpala Normale Come lui Lui mette il quattro due Mette il due mana Che copia il servitore Diciamo da questo punto di vista Potrebbe risultare Un periodo un po' più Un po' più strong In confronto al classico paladino Ok Cerchiamo lui Comunque non Mi so se Ovviamente non possiamo neanche Far più di tanto Non vorrei sacrificarmi Secondo scaglia penna Mi sa che Con uno scaglia penna Tra di lui Volendo Quando tanto non mi fa niente Passiamo Posso sbagliare Perché avrei potuto Comunque ammazzarlo E evocarmi due scaglia penna No Non sarebbe cambiato nulla Ok Gioca il primo gioco di scuola Lui comunque A differenza nostra Non è partito così bene Come noi Però Ho visto che comunque Stiamo perdendo un po' i billetti A parte meglio questo mazzo Però i billetti Si va a ridurre Invece il purpala classico E più Più consistenza Diciamo il let Ma può partire comunque bene Questo comunque I da con tanta value Ok Perfetto Mi sa che abbiamo perso No Vabbè Non so Potremmo fare Beh Potremmo anche giocare Lui questo lo trodiamo Siamo ai qualti E ci teniamo comunque Più davanti se faccio Può essere sempre comodo Ottimo Con questo I tradiamo il 9-1 Avete visto ragazzi La forza di questo mazzo Permetti di tradare E di mettere il bot Allo stesso tempo Con l'1-1 Che ti permette di fare Qualsiasi trade Comunque è molto scomodo Soprattutto al paladino Che ha bisogno comunque Sempre di un target Per poter comunque Diciamo Vabbè Avete capito Ok Adesso vediamo Lui che cosa gioca Ovviamente Ovviamente Consecrezioni Giustamente fortissimo In questo mazzo Mi può tradare l'1-1 Giustamente Ovviamente Ok Ok la buffa Però a me questo Non è un problema Tanto comunque C'ho anche io il mio buff Il più che ci sa spiegare Tutti e due I skypenna Comunque Non che il mazzo Sia centrato sui skypenna Però comunque È Una forza del mazzo Che sfrutta i skypenna Se ci finisco subito 3-6 Perfetto Posso fare anche così 3 Posso fare anche così Ovviamente Dobbiamo tradare tutto quanto In modo da potergli dare modo Di poter sfruttare Niente Ok Perfetto Adesso comunque abbiamo Quanto in mano vantaggio Abbiamo un 4-5 5-3-1 Che sono un po' di danno Abbiamo finito le carte Diciamo che questo Non ha per esempio La 7-7-7 che tira dalle carte Però comunque Ha molto modo di pescare Tra l'1-1 E il 3-1 Lui ha 3 baffi in mano O 2 Sì da 8 9-10 No Per la portata di 10 Ha 2 baffi in mano Ha una carta che non ha utilizzato Ovviamente Piede un giorno di scuola Ovviamente Però comunque Non l'aiuta tanto È che noi Non riusciamo a prendere Libram Ah Sì la consacrazione è finita Però Non mi dire che ha preso Skypenna Ok Ragazzi Ovviamente questo è fortissimo Questo ci fa un sacco male Però mi sono tenuto il piromante Il piromante Per me può essere buono Perché adesso C'avevo anche eliminare Adesso col piromante Qualsiasi cosa più boot Che siano piedini piccolini Poi c'hanno comunque Tra l'altro tutto quanto Ed è buona Ok Gioco Continuo a giocare Ah ma adesso Però il più che si ribaffa Nel massimo facciamo Due danni Ok Dovrebbe secondo me Baffare più su un servitore Ecco Così ha sbagliato Perché se baffasse Se avessi anche una consacrazione Io comunque Distruggerei tutto quanto Non ha avuto molto senso Da parte mia Da parte sua Secondo me Adesso noi Come ho detto Tardiamo tutto quanto Perché Scriviamo un po' d'eroe E passiamo Ecco Diciamo che Questo qui ha sbagliato Perché se tattava tutto un pezzo Gli rimaneva solo uno Tanto Se avesse avuto Una possibile consacrazione Avete dato comunque tutto Ecco Secondo me ha sbagliato Ok Abbiamo rimasto un 5-2 Non abbiamo neanche tante carte Ve lo dico 14-10 L'unica è che questo Non ha molte risorse In confronto al poor padding Che magari c'ha Il forgialuce C'ha il 7-7 Quindi una volta che ha finito le carte Ecco Non ha neanche carte di questo tipo Che sicuramente Danno consistenza al mazzo Per fortuna abbiamo un'equality Che l'abbiamo pescata Adesso la protettata da col servitore Perché se no Eravamo veramente fregati Ci servono ibram? No A noi ci mancano ibram Perché Quelli della speranza Ah Te l'abbiamo pescata Facciamo così Questo Io lo tagliamo subito Perché se no Non avevamo modo di ucciderlo Eravamo fregati Ovviamente mi curo Baffiamo tutto lui E cerchiamo di vincere Assolutamente Prima che ci sia troppo Tra il potere Per trattare qualsiasi cosa Che metta con scuro di vino Sicuramente Poi tanto abbiamo il mana Per farlo Ok Abbiamo preso Quel piccolo vantaggio Tanto comunque Mi pare che abbia usato Da qualche qua Adesso ci serve O da maliedrin Che sicuramente Quella ci fa vincere Comunque abbiamo un sacco di buff Che potremmo Barsigliare un po' Sto quanto Ok Quella non la togliamo Non ci interessa Non ci dà fastidio Però No in verità ci dà un po' fastidio Perché A lei non posso neanche giocarla Perché Non posso neanche giocarla Ok Tardiamo tutto quanto Ci tocca trattare tutto Perché Se ha qualche buff Qualcosa Diciamo che siamo costretti Lei mi sa che la gioco così Lei la gioco così Voglio mettere pressione Voglio mettere borro In questo modo Quella non abbia tempo Di fare Se hai quelli di consegazione La usavo comunque Mi sono perso 4-6 Però amen Comunque tanto di carte buone Ho usato i due liban Non ho neanche tante carte Quindi se mi va bene Mi dà subito l'8-8 Forse cosa gioca equality Forse Potrebbe giocare un equality Ah ok Un 8-8 Però comunque Adesso già non può attaccare Se io lo davo prima Ci tradava il pezzo Figuro Quindi adesso Mi ho fatto un'ottima giocata Sicuramente Uh Morguglio Questo ci fa vincere Mi sa Questo Morguglio Mi sa che ci fa anche vincere Adesso non so Se sia meglio Effettivamente tradare Penso che comunque Lo trado sempre A prescindere da tutto E gioco anche Morguglio Perché c'ho anche lo spazio Ah dopo c'ho anche Le magie queste qui Perfetto Ok Via di Morguglio 2-4-6-7 Buffiamo lui Portiamo a te di salute Così anche Avesse una consegrazione Non può far nulla No 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 dai Muoviti Muoviti Adesso Vabbè adesso aspettiamo Non so cosa potrò fare Io Il video si è spinto il gioco ragazzi Ovviamente la pensava mai che si arrendesse No ma vada Abbiamo perso 40 turni Torniamo Siamo già tutti morti Sicuramente E ovviamente ragazzi L'abbiamo persa Ovviamente E mettere like Non mi avete fatto Ragazzi ci vediamo Ovviamente la prossima partita Che cosa per te è andata una merda Perché ovviamente Ragazzi al caso della riconoscizione non ho potuto venire Quindi ragazzi Parico per tutti ragazzi Ciao 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 Ciao